Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questa nuova recensione nella quale oggi con questo Qbot C5, che sto usando ormai da parecchi giorni, torneremo a parlare insieme di smartwatch entry level con un modello che come vedremo si differenzia dagli altri orologi C3 e V3, sempre di Qbot, che abbiamo visto nelle settimane scorse per il design del display e per il software di gestione più completo. Detto questo però, come sempre, se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram del canale così da rimanere aggiornati sulle novità future. Detto questo, come sempre, iniziamo velocemente con l'esperienza di unboxing, cominciando quindi con la confezione che è realizzata con una buona cura ed attenzione ai dettagli e dove sul retro c'è anche il codice a barre per scaricare l'applicazione disponibile sia per Android che per iOS. All'interno, oltre ovviamente allo smartwatch, su cui naturalmente torneremo tra qualche secondo, ci sono anche il cavetto a due pin magnetico che serve per ricaricare la batteria, un cinturino di ricambio, sempre in gomma, come quello di serie ma in colorazione blu anziché nera ed infine, nascosto qua sotto, c'è anche il manuale di istruzioni che è tradotto anche in italiano e in illustra grandi linee il funzionamento. Passando all'orologio, come vi dicevo qualche secondo fa, sia il design che la qualità costruttiva sono sicuramente uno dei suoi punti di forza. Infatti la cassa è realizzata in due materiali, metallo per il telaio e vetro per la parte che ricopre il display e il fondello, dove ci sono il sensore ottico per la lettura della frequenza cardiaca e i due pin per la ricarica della batteria, dove va collegato il cavetto che pur essendo magnetico riesce comunque a rimanere agganciato con una buona stabilità. Prima di analizzare il software di gestione, due parole sul display, che è sicuramente una delle particolarità più importanti per qualsiasi orologio e in questo caso si tratta di un pannello TFT LCD da 1,7 pollici, completamente touch, molto sensibile, ricoperto da un vetro altrettanto resistente ai graffi e pur non avendo un sensore di luminosità automatico, è alquanto luminoso, tanto che si può consultare anche al minimo all'esterno sotto la luce diretta del sole. Il funzionamento è semplicissimo, partendo dalla watch face, che naturalmente come vedremo può essere modificata dal menu impostazioni, scegliendone un'altra tra le 5 disponibili. Con uno swipe dall'alto verso il basso entreremo nel menu delle impostazioni rapide, dove avremo a disposizione alcune opzioni che ci permetteranno di cercare lo smartphone, di gestire le sveglie solamente però attivandole e disattivandole, perché possono essere create esclusivamente con l'applicazione, poi potremo regolare su 12 livelli la luminosità, attivare la modalità non disturbare, che non è intelligente e quindi non può lavorare in modo automatico e che disabilita la vibrazione, che è anch'essa abbastanza buona come intensità ma non regolabile ed infine selezionando l'ultima opzione riceveremo anche alcune informazioni sul modello e la versione del firmware, mentre come vedete nella parte bassa del display potremo verificare in tempo reale lo stato della connessione con lo smartphone e il livello della batteria. Tornando invece alla schermata principale, con uno swipe da destra verso sinistra accederemo alle informazioni sul fitness che comprendono il pedometro, dove oltre al numero di passi vengono mostrate anche la distanza percorsa e le calorie bruciate, con un ulteriore swipe sempre da destra verso sinistra accederemo al monitoraggio del sonno, che è a sua volta suddiviso tra leggero e profondo ed infine potremo anche misurare in tempo reale la frequenza cardiaca. Proseguendo torneremo invece alla schermata principale dove con uno swipe dal basso verso l'alto accederemo alle notifiche che sono gestite in modo molto scarno e con le quali non si può naturalmente interagire, si possono solamente visualizzare senza emoji i messaggi singoli, non quelli multipli e cancellare in blocco, mentre alle telefonate non si può rispondere direttamente dall'orologio che non integra un microfono ma si può comunque silenziare lo smartphone. Come vedete qui in alto a destra c'è anche un pulsante che permette oltre a risvegliare il display e tornare alla watch face principale anche di accedere ad un menu più approfondito che è a scorrimento continuo e dove oltre ad alcune delle funzionalità che vi ho appena illustrato avremo anche a disposizione la parte relativa agli allenamenti dove potremo scegliere tra ben 10 attività sia indoor che outdoor per le quali a meno di non utilizzare lo smartphone visto che l'orologio non possiede il gps non verrà naturalmente registrato il percorso. Sessioni di allenamento per le quali invece l'orologio registrerà il tempo, le calorie, la frequenza cardiaca, il numero di passi, la distanza e il ritmo al chilometro dati questi ultimi due che naturalmente saranno stimati in base alla lunghezza del passo a sua volta calcolato dall'altezza infatti nell'applicazione non c'è un'opzione che consenta ad inserire la lunghezza della camminata. Durante gli allenamenti con uno swipe verso destra potremo accedere al lettore musicale che però funziona solamente in remoto controllando la musica che c'è sullo smartphone il che significa naturalmente che non si possono salvare le canzoni direttamente sull'orologio al quale quindi non possono essere nemmeno abbinate delle cuffie bluetooth. Poi sempre nello stesso menu impostazioni oltre ad alcune funzionalità meno importanti come il cronometro, il controlla rovescia, il lettore musicale che come vi ho appena detto permette di gestire esclusivamente la musica riprodotta dallo smartphone, c'è anche la possibilità di monitorare la salute femminile attraverso il tracciamento del ciclo che come è giusto che sia si disabilita automaticamente nel momento in cui nell'applicazione impostiamo come nel mio caso il genere maschile. Mentre entrando nelle impostazioni generali che in questo caso sono molto complete potremo ad esempio regolare la luminosità e il tempo di accensione del display che può variare tra 3 e 30 secondi. Potremo anche gestire i vari avvisi e promemoria che riguardano tra gli altri anche la frequenza cardiaca e la sedentarietà. Inoltre potremo anche decidere da quali applicazioni vogliamo ricevere le notifiche funzionalità che normalmente per questo tipo di smartwatch è gestita esclusivamente a livello dell'applicazione. e poi come vi dicevo è anche possibile cambiare il quadrante scegliendone uno tra i cinque disponibili e quindi anche in questo caso un software di gestione semplice ed intuitivo con un menu impostazioni davvero molto completo anche se in alcuni casi la traduzione è un pochino approssimativa. E questo direi che è tutto per quanto riguarda il sistema operativo dell'orologio per cui possiamo trasferirci all'applicazione che come vi dicevo si trova sullo store ufficiale sia android che ios applicazione che si suddivide in tre schede dashboard fitness e mio partendo naturalmente dalla prima dove c'è il riassunto dei passi del sonno e della frequenza cardiaca che possono essere a loro volta scomposti ed espansi selezionando la relativa sezione che ci permetterà di entrare in una schermata dedicata che contiene maggiori informazioni per cui per il sonno oltre la durata e la distinzione tra quello profondo e leggero potremo vedere anche i risvegli notturni e a che ora ci siamo sia addormentati che svegliati e poi ovviamente premendo qui in alto a destra sul calendario potremo anche verificare quanto è successo nei giorni precedenti. E lo stesso discorso vale naturalmente anche per i passi che come vedete sono suddivisi in intervalli di mezz'ora così come la frequenza cardiaca che quindi può essere misurata sull'intero arco delle 24 ore con un intervallo di rilevamento però di 30 minuti. Collegamento con l'applicazione che avviene via bluetooth infatti l'orologio è dotato di un modulo in versione 5.1 che si connette molto velocemente e poi riesce a mantenere molto bene la connessione. Selezionando invece qui sopra a destra la voce altro e poi scegliendo la rotellina dentata entreremo nel menu impostazioni da dove potremo gestire tutte le opzioni dell'orologio per cui con la prima voce potremo scegliere da quali applicazioni vogliamo ricevere le notifiche funzionalità questa che peraltro abbiamo già visto essere presente anche sullo smartphone. Con la seconda voce invece potremo creare delle sveglie mentre le restanti voci consentono di attivare oppure disattivare il promemoria della sedentarietà, la soglia di allarme della frequenza cardiaca, l'accensione del display con la rotazione del polso, la connessione con lo smartphone, la modalità basso consumo e per ogni switch è possibile cliccando sul bordo del display impostare alcuni parametri per cui ad esempio selezionando la rotazione con il polso potremo sia regolare la sensibilità che disabilitare questa funzione durante le ore notturne cosa fondamentale per poter indossare l'orologio a letto. Poi tornando indietro e continuando con la prossima voce potremo impostare il tempo di accensione del display che può andare da 3 fino a 30 secondi e poi concludiamo questa veloce carrellata con la restante parte delle voci che permettono di regolare alcune opzioni minori. Infine tornando alla schermata principale e cliccando qui sull'ultima opzione potremo personalizzare la dashboard scegliendo quali schede visualizzare. Scegliendo invece la voce fitness troveremo le varie attività che sono a loro volta suddivise in movimento gps e quindi registrate con lo smartphone oppure movimento del braccialetto che invece sono le sessioni di allenamento che provengono dall'orologio. Naturalmente attivando le entrambe contemporaneamente alla fine della seduta otterremo due sessioni distinte che quindi non vengono combinate assieme. Mentre dall'ultima scheda potremo impostare i parametri personali come la data di nascita, il peso, l'altezza e il colore della pelle cosa questa fondamentale affinché poi il sensore ottico per rilevare la frequenza cardiaca lavori correttamente e poi potremo anche stabilire gli obiettivi giornalieri sia di passi che del sonno e scegliere il sistema di unità di misura. E questo è tutto per quanto riguarda l'applicazione per cui come sempre in conclusione dobbiamo ancora parlare dell'accuratezza delle rilevazioni per cui il conteggio dei passi e la misurazione della frequenza cardiaca sono tutto sommato abbastanza precisi mentre la rilevazione del sonno anche in questo caso come per gli altri modelli di cubot che abbiamo visto in precedenza è abbastanza approssimativa. La durata della batteria è molto buona tanto che con un'attività sportiva al giorno e la rilevazione continua della frequenza cardiaca ho dovuto ricaricarlo dopo circa sette giorni. Del display, della qualità costruttiva e del design vi ho già parlato ampiamente e quindi se siete interessati per maggiori informazioni trovate tutto quanto qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo la prossima. Ciao da Gianni